44,2 chilometri, 24 tappe, dall'Appia Antica alle architetture contemporanee del Maxi, da Torpignattara al Colosseo, passando per parchi, paesaggi, ville storiche, percorsi fluviali. È il Grab, il grande raccordo anulare delle bici, progetto partecipato per la realizzazione di un anello ciclopedonale che si sviluppa completamente all'interno della città di Roma. Il progetto, nato da un'idea di Velo Love in collaborazione con Lega Ambiente, Rete Mobilità Nuova, Touring Club Italiano e Parco Regionale dell'Appia Antica, presentato ovviamente nella capitale presso l'ex cartiera latina, si presenta dunque come un incredibile Greenway, la ciclovia urbana più antica e più lunga del mondo. Il risultato è sorprendente, dicono gli ideatori, che hanno battuto strada per strada, studiato mappe e testato mille varianti. Il Grab è sicuramente una ciclovia turistica, ma è ugualmente importante per i cittadini, la mobilità urbana, lo sport, i bambini. Il percorso, che consente di viaggiare nella storia, osservare il cambiamento, godere della natura, prevede costi calcolati considerando diversi livelli di intervento. La versione basica costa circa 500 mila euro. Una ciclovia dall'alto contenuto turistico prevede costi stimati tra i 2 e i 4 milioni di euro. Nessun dubbio che la ciclabile urbana più lunga del mondo, pari ad un Grand Tour, offra poi un ritorno in termini economici non indifferente. Il progetto è nato andando in bicicletta con i miei amici. Ci siamo resi conto che c'erano una quantità di parti di Roma del tutto sconosciute alla popolazione, acquedotti romani, ninfei, mausolei. C'era una quantità anche notevole di verde urbano. Siccome è come le caramelle, una si attacca all'altra, abbiamo cominciato ad attaccare insieme questi parchi finché alla fine non è venuto un percorso con una sua coerenza che abbiamo collaudato più volte. Alla fine abbiamo avuto quest'idea di proporlo come infrastruttura per la città perché ripercorrendolo anche in tempi diversi ci siamo accorti di quanto sia l'enorme valore paesaggistico, storico, archeologico che questo percorso contiene. Al di là poi del fatto che andare in bici è piacevole, fa star bene, farlo in una situazione lontana dal traffico e dalle automobili è il non plus ultra. È un percorso comunque in sicurezza? È un percorso in sicurezza, sì, lo abbiamo fatto anche con dei bambini, dei ragazzi. Non presenta, è il più possibile fuori dalle arterie di traffico e quel poco che è rimasto ancora inevitabilmente legato a tratte minimamente trafficate cercheremo di risolverlo nei prossimi mesi con la collaborazione anche di Agenzia Mobilità del Comune e di tutte le identità che si sono dimostrate interessate in questo progetto. Questa è una scelta anche consigliata non solo magari turistica ma anche agli stessi cittadini che amano magari la bicicletta e che trovano difficile muoversi comunque nel nostro contesto urbano? Sì, soprattutto c'è il dato di conoscenza, cioè se i cittadini non conoscono questo percorso perché magari non sanno che un sentiero che entra in un parco da un lato poi esce fuori a chilometri di distanza nella direzione in cui devono andare magari non ci perderanno mai tempo ad andarlo a verificare. Una volta che questa infrastruttura diventa della città anche i cittadini potranno cominciare a fruirne e diventerà nota a tutti. Il discorso turistico è importante perché il turismo porta comunque soldi nelle casse degli albergatori, dei ristoratori, della città in generale. Quindi questa dovrebbe essere un po' la molla economica che manderà avanti l'intero progetto ma è ovvio che l'intera cittadinanza una volta che si trova a disposizione un percorso che consente di raccordare zone diverse della città lo potrà utilizzare e sarà anche imbogliata a farlo. Dottor Ciafano, abbiamo parlato col dottor Pia Franceschi e ci ha spiegato questo bellissimo progetto che nasce come un progetto sinergico e che sposa e coniuga l'ambiente con la storia, la cultura, l'archeologia. Ci voleva? Come è nato questo progetto? Che forze sono state investite per realizzarlo? Come sempre è un progetto che nasce da un team di volontari che con le loro professionalità si mettono insieme ambientalisti, professionisti, persone a cui piace andare in bici e che vogliono utilizzare anche questa straordinaria città partendo non da un'automobile ma ovviamente utilizzando la mobilità dolce e la mobilità più lenta. Viene fuori un progetto straordinario che farebbe salire agli onori delle cronache internazionali Roma anche per un progetto di mobilità alternativa che mette insieme turismo, che mette insieme la mobilità dolce che mette insieme la partecipazione dei cittadini una serie di ingredienti che trasformerebbero Roma dalla città anche del grande raccordo anulare alla città eterna anche del grande raccordo anulare delle biciclette che è una suggestione straordinaria che si può fare con poche risorse e anche in poco tempo ed è per questo che oggi lo presentiamo per facilitare questo percorso, per rendere concreta una cosa di questo tipo è una grande opera per la Capitale d'Italia che non ha bisogno di grandi investimenti ha bisogno solo di volontà politica e è quella che appunto chiediamo a partire dall'iniziativa di oggi. Infatti Roma Capitale come ha accolto questa iniziativa e è pronta anche ad investire o comunque a partecipare a questo progetto che legame c'è? Beh c'è un interesse da parte di Roma Capitale che adesso deve essere insomma approfondito e concretizzato abbiamo avuto l'adesione entusiastica da parte del Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio e questo ci inorgoglisce perché Del Rio ha capito la valenza straordinaria di questo progetto anche evocativa perché dal grande raccordo anulare delle biciclette si può poi partire con tutte le arterie delle biciclette ce ne sono già presenti insomma si può far diventare Roma la città del milione di strade per gli automobili e gli scooter ha anche la città del milione di strade che possono utilizzare chi vuole andare a piedi chi vuole andare in bicicletta e chi vuole starsene in maniera tranquilla a godersi la città non in modo frenetico come purtroppo non riusciamo facciamo spesso senza riuscire a goderci la città si può vivere questa straordinaria città andando più lentamente e avendo anche il tempo di guardarsi intorno cosa che non si riesce mai a fare quando ci si sposta dentro Roma Oggi si presenta un progetto lei ha parlato quindi di fondi per renderla proprio attuabile quanto tempo passerebbe? Beh insomma diciamo la gran parte diciamo più dell'80% del grab è già esistente non si devono fare interventi se non quelli diciamo di sistematizzazione della segnaletica o quant'altro sul restante 25% c'è una piccola porzione diciamo due chilometri che sono quelli più complicati perché insomma si incontrano le arterie ad alto flusso veicolare quelli sono i punti critici ce ne sono diversi anche se sono solo due chilometri ecco insomma l'intervento di Roma Capitale e l'intervento del Ministero delle Infrastrutture permetterebbero a questo progetto di risolvere in tempi brevi di queste criticità e con insomma poche centinaia di migliaia di euro come abbiamo quantificato nel nostro progetto si potrebbe rendere concreto questo progetto da qui ad un anno, un anno e mezzo